Il tumore alla mammella è la neoplasia più frequente in assoluto nella popolazione femminile. Colpisce una donna ogni otto nell'arco della vita. Ad oggi è la prima causa di morte in Italia e in Piemonte. Impegnato nella prevenzione, diagnosi, cura e ricerca medica nella lotta al cancro al seno, esiste un centro di riferimento a livello nazionale. È l'unità multidisciplinare di senologia dell'ospedale di Tortona, diretto dalla dottoressa Maria Grazia Pacuola, responsabile provinciale della Breast Unit ASL-AL. Qui, sulla scia degli insegnamenti del professor Umberto Veronesi, si pratica con tenacia la via e la forza della prevenzione. E fra le tante iniziative messe in campo dalla senologia tortonese, sta raccogliendo i suoi frutti Io Donna Progetto Salute, percorso che ha preso il via nel maggio scorso e dedicato, nello specifico, alle quarantenni. Le quarantenni, le donne nate nel 1979, hanno diritto o possono usufruire di un dono, che è quello di fare la prima mammografia. Lei ricordava il professor Veronesi, lui raccomandava di fare la prima mammografia a questa età, proprio per avere un punto di partenza, per capire com'è fatta la ghiandola mammaria, selezionare le donne che hanno un maggior rischio di ammalarsi e costruire per loro un percorso quasi personalizzato. Mentre per le altre signore affidarsi a quelli che sono gli schemi di controllo già in atto nella regione Piemonte, che iniziano poi a 45 anni con la mammografia fatta in screening, prima annuale e poi dai 50 anni in poi biennale. In Piemonte, le province di Alessandria e di Vercelli, sono statisticamente quelle a più alta incidenza sul fronte del cancro al seno, anche se va detto che la pratica della prevenzione dà risultati altrettanto incoraggianti. Purtroppo, come si ricordava, il tumore della mammella non molla nella sua presenza nella nostra popolazione e per questo abbiamo avuto la possibilità di iniziare questo percorso grazie alla collaborazione, al supporto e all'appoggio di due club Rotary, Novi Ligure e Gavi Libarna, insieme all'appoggio, all'aiuto anche del Lions Club di Pozzolo Formigaro, insieme alla Commissione Distrettuale Salute, sempre del Rotary, che hanno sposato questo progetto, lo stanno finanziando e ci consentono di fare questo regalo, questo dono alle quarantenni del territorio, compreso nel distretto sanitario di Novi Ligure e di Arquata Scrivia, compresa la Val Borbera, Valle Spinti e Vallemme, perché è il territorio di riferimento dei club che si sono impegnati a sostenere il progetto. I numeri? I numeri, le donne, le quarantenni che risiedono in tutti questi comuni, che sono parecchi perché ci sono poi tutti i comuni delle valli, sono 230. A tutt'oggi, da giugno, quindi più o meno fine maggio, inizi di giugno, da quando è iniziato il progetto, circa 40 signore, 40 donne, hanno accettato il nostro invito. Le donne vanno con semplicemente la carta d'identità, da cui risulta che sono nate nel 79 e che abitano nei comuni di riferimento. Grazie a tutti.